Sei un medico, un nutrizionista, un professionista della salute? Sicuramente S-Drive è una vera rivoluzione per un approccio clinico integrato in grado di mappare tutti quelli che sono le interferenze che possono danneggiare la salute delle persone e soprattutto dire quello che hanno bisogno le cellule per funzionare in maniera adeguata. S-Drive è una tecnologia unica al mondo, una rivoluzione per un approccio clinico integrato.